Ciao tifosi della Lazio, sono il vostro giornalista sportivo di fiducia qui a portarvi notizie fresche direttamente da Roma. Abbiamo un movimento interessante sul mercato che potrebbe scuotere le cose per la nostra difesa. Secondo quanto riportato da Lego.it, sembra che ci sia stato un cambio di piano riguardo a Cabal, che è stato messo in stand-by dalla Lazio dopo aver raggiunto un accordo con il Verona. Ma non finisce qui, ragazzi! Il nome che ora sta attirando l'attenzione nel club capitolino è quello di Nuno Tavares, il giovane difensore di 24 anni del Nottingham Forest, in prestito dall'arsenale membro della nazionale portoghese Under-21. Nelle ultime ore, sembra che ci sia stata una riunione decisiva sul suo futuro. Nuno Tavares, noto per la sua velocità e capacità di adattarsi sia in difesa che nel supporto all'attacco, potrebbe essere un'aggiunta preziosa al nostro schema tattico. Allora, la domanda per tutti voi, cosa pensate di Nuno Tavares che potrebbe indossare la maglia della Lazio? Ha quello che serve per rafforzare la nostra linea difensiva e fare la differenza nella prossima stagione? Non dimenticate di lasciare il vostro commento, condividere questo video e iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Vogliamo sentire la vostra opinione, tifosi, alla prossima!